Questa c'è la storia di un brantino. La penna, la medisi, col tappiccio, mi son de piram, anche mi che dico che son nato a Val de Piam, solo me interessa dove gira il pesce can, ma più tardi go capide cosa che se tratta, tutti pesci mati, tutta una pignata, ise zucca, ise sburta e anche rosiga, finché noi ga rotto tutto noi se ga calmà. I era una orada bella intelligente, tutti i pesci l'ascoltava senza dire niente, ma quei altri la i sega incazzà e dopo per paga i la gammagnà. Mi stago di parte, non mi frega niente, forse vignarà la pace anche qua, la nostra bella orada ormai la se andà, domani vedremo chi comanderà. L'altro giorno se vigno trova nella scarpena, l'aga ha detto che l'aga trova chi che ne menna. Migo domanda, e chi sei questo qua? Un grande polpo nero dell'America. Passa i giorni, passa i anni qua, non cambia niente, tutti i pesci imbarufa e anche la gente, se vedi che sei proprio a proprio destina, prima o dopo impadella e ne mangarà. No!